Quella di domani non è una gara come le altre per il Sant'Omaso di mister Stefano liquidato. A Prato la Serra c'è il Palermo. Solo a citarne il nome vengono i brividi. Nella trasmissione Polver di Stelle, il format dedicato al calcio del tanto irpino, il capitano del Sant'Omaso, Fabio Leruzzo, ha caricato i suoi. Domani si gioca una partita unica nel suo genere. Tutta la rosa non ha mai dimenticato il mezzo di andata del Barbera, con 20.000 spettatori per i primitani che hanno applaudito i grifoni. Leruzzo sogna il colpo gobbo alla corazzata rosa nero. L'ex fundi e cavese però è certo di un aspetto. Sicuramente è una partita di prestigio, ma non solo per noi, ma proprio per la città di Avellino. Sicuramente è una partita importante. Noi giochiamo in casa, quindi non vuol dire essere penultimi e loro primi, vuol dire che la partita è in un senso unico. Quindi sicuramente noi daremo il massimo e perché no riuscire a portare pure qualche punto. C'è un'arma che gli avellinesi devono sfruttare per arginare l'ulagano palermitano. Il capitano ci svela quale. Noi in casa dobbiamo essere degli animali, nel senso dobbiamo essere aggressivi. Noi non dobbiamo metterla sull'aspetto fisico, sull'aspetto agonistico. E secondo me lì possiamo fare male, anche perché sappiamo bene che a Prato la Serra il campo non è grandissimo, quindi voglio dire attaccarli, essere aggressivi, potrebbe creare problemi a loro. Aspetto sì, paura no. Il calciatore bianco-verde stolina ancora che la Serie D è un campionato particolare e che le imprese nel calcio esistono da sempre. Non è che partiamo battuti, ci mancherebbe altro. È normale, il tasso tecnico loro è superiore al nostro, questo è poco ma sicuro. Però, ti ripeto, questa è una categoria dove tutti possono vincere con tutti. Quindi noi la classifica in questo momento non la dobbiamo guardare. Viene il Palermo, per carità, massimo rispetto, però noi faremo sicuramente la nostra partita.